Un tweet di troppo di Donald Trump ha fatto infuriare la premier britannica May creando tensione fra i due alleati nei delicati momenti subito dopo l'attentato di Londra nella metro di Parsons Green. Un altro attacco dei terroristi perdenti a Londra sono persone malate e dementi nel mirino di Scotland Yard. Bisogna stare sull'attenti, ha scritto Trump, criticando apertamente l'intelligence britannica. Fare speculazioni non aiuta nessuno, ha commentato poco dopo, lapidaria May. Uno scontro rientrato dopo una telefonata da Washington. I nostri cuori e le nostre preghiere sono con i londinesi che hanno subito questo malvagio attacco terroristico. Ho parlato con una donna fantastica, la premier britannica May, e ho trasmesso la più profonda simpatia, così come il nostro impegno assoluto a sradicare il terrorismo.